Ciao a tutti ragazzi, qui è il Magnifico 98 e benvenuti in questo nuovo vlog. Sono qui oggi in questo nuovo vlog per parlarvi di varie cose. Come vedete sono in una stanza. Questa stanza non è la stanza che avete visto nel vlog che ho fatto al mare, questo significa che sono tornato. Quindi sono tornato a casa mia dopo la lunga vacanza, un mese di assenza, tecnicamente perché avete comunque avuto dei video da poter vedere sul canale. E appunto faccio questo nuovo vlog per dirvi alcune cose, ho fatto qui delle scalette, poi ne parliamo. Appunto sono tornato e spero di poter continuare, continuo sicuramente a fare video, però spero di poter fare soprattutto tra i 3 e i 4 video a settimana. Poi magari fare, non so, qualche programmazione, che ne so, 3 video, che ne so, lunedì, mercoledì, venerdì è un video speciale, la domenica un vlog, poi vedremo. E appunto sono tornato e appunto volevo parlarvi di varie cose. La, innanzitutto volevo parlarvi delle varie serie che sto facendo, allora. Per quanto riguarda la Minecraft The Fapper, che è la Survival, quella continuerà, però ha un ritmo non veloce come l'avevo fatto tempo fa a luglio, che è tipo un episodio tipo al giorno ogni due giorni. Magari forse uno, massimo due episodi a settimana, poi dipende anche dalle serie che farò. Per quanto riguarda poi gli Skywars, avevo intenzione, forse, forse, di fare Skywars con gli iscritti, però questo probabilmente lo farò più avanti, molto più avanti. Inoltre, per quanto riguarda la Pixelmon, abbiamo deciso di tornare nella 1.6.4, e quindi tra non so quanto tempo, dipende quando il server sarà disponibile, la Pixelmon ricomincerà, però non so se ricominceremo l'episodio 1, 2, oppure andrà avanti con gli episodi precedenti. Inoltre, un mio amico, che non sapete, il tempo fa io avevo fatto un video in cui sponsorizzavo, per il poco un numero di iscritti che ho, sponsorizzavo un sito di hosting, che si chiamava Speed for Hosting, sì. E il gestore di questo sito di hosting ha dovuto chiudere il sito temporaneamente, non so se lo riaprirà mai, però per il momento il sito è chiuso. Però lui ha comunque la possibilità di ostare server, e mi hosterà probabilmente un server da 6 giga, mi pare, tipo. e avevo intenzione di iniziare una serie in un pacchetto moddato, tecnico, con qualcuno. Qualcuno l'ho già trovato, il problema è il server. Volevamo fare una serie su un pacchetto tecnico, quindi avevo optato per la tecnologia 3 di Xander. Ora, non lo so, dipende anche se riusciamo a scaricare il pacchetto e inserlo nel server, poi si vedrà più avanti. Quindi, inoltre, consigliatemi nei commenti, però, quelli che guardano il video, consigliatemi nei commenti, serie da fare, perché non ho molta fantasia, quindi magari consigliatemi voi quello che devo fare. Che ne so, inizio una serie in cui presenti moddi, inizio una serie in cui presenti custom map belle, custom map brutte, texture pack, e me le consigliate voi, e io poi le presenterò, magari che ne so, una top 5, così, a random. Inoltre, in questo momento siamo tipo a 290, 289, mi metteremo intorno ai 290 iscritti, e appunto tra poco arriveremo ai 300. Per i 300 iscritti volevo fare uno speciale montaggio, con i video precedenti. Per fare ciò, io non sono molto esperto di montaggio, anche se quello che ho fatto per il 3 non è venuto tanto male, però non sono molto esperto. E allora ho chiesto a un mio amico, che io ho chiesto di... Beh, guarda, io ho inviato delle clip, lui le sta lavorando, non lo so, lui ho detto di sbizzarrirsi, basta che esce qualcosa di bello per i 300 iscritti. Quindi, per le news di oggi sono terminate qui, per qualunque cosa, passate dalla pagina di Facebook, che trovate sempre il link in descrizione. Inoltre, l'ultima info che volevo darvi è, io tecnicamente ero admin di 3 pagine Facebook, la mia, quel nerd sul server, e TheMinecraft. La mia è sempre la stessa, anche quella di quel nerd sul server, però alla pagina di TheMinecraft sono uscito dal gruppo degli admin, per problemi di tempo, non avevo tempo di gestire 3 pagine Facebook e un canale YouTube, poi ho anche un io, una vita privata. È tutto, è tutto. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto, passate soprattutto dalla pagina Facebook, dalla mia pagina Facebook, dove pubblico, sai, condivido sempre tutti i video che carico in tempo reale, tipo un video esce all'una, all'una va sulla pagina, viene pubblicato sulla pagina Facebook. Aggiungitemi anche su Google+, sempre il Magnifico 98, in caso vi inserisco i link in descrizione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, arriviamo a 15 like, anzi 20 like per il mio ritorno. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, ciao a tutti ragazzi!